Musica Ragazzi ed eccoci qui con un'altra puntata del nostro Pokémon Oggi ragazzi, obiettivo primario è andare Andare, andare Qua ragazzi, oggi si va ad Arenipoli Cerchiamo di far evolvere Astario E soprattutto prendiamo l'ultima medaglia E poi ragazzi da martedì o mercoledì Finalmente si può andare verso la Lega Pokémon Allora, penso che la strada sia giusta Sì, fatemi vedere un attimo Vi darò un'occhiettina Ok, giusta, tutta dritta Quei nostri bei Pokémon che ormai si sono Sono cresciuti benissimo E sono pure abbastanza contento Perché comunque siamo riusciti a fare arrivare tutti a un bel livello Sono tutti sopra il 50 Penso che arriveremo verso il 60 Magari per la Lega Comunque contando che ancora ci abbiamo una palestra Ancora ci abbiamo tutta la mia vittoria Quindi, meglio di così Si muore Allora, si va di qua Il tipo, ok, se ne è andato Bene così E andiamo avanti Allora, una cosa che serve Perché ci sarà un botto di gente Super repellenti a manetta E dovrebbe essere tutta dritta di qua La strada Ah, ok Sì, tutta a destra Quindi andiamo di qua Vabbè, qua dobbiamo sfidare a tutti Che noia Che ne dici di rompere la monotonia? Va bene Adesso qua sfidiamo a tutti ragazzi Ah, ok, uno Così, lux A livello 43 Ma sono belli alti i Pokémon Sono belli alti qua A livello 43 Bello altivo Bello altivo come Pokémon Io andrei con taglio Tanto comunque Lo scettiamo easy Ok, il primo Ce lo siamo fatti Andiamo avanti di qua Andiamo di qua Sfidiamo tutti gli allenatori Che ci sono Dopo aver consumato un pasta Al ristorante dell'hotel Si lotta Così almeno suggerisci Il bon ton Ok Allora, lo pugni Dovrebbe essere tipo normale Fuoco, ruota fuoco Dovremo fare male Ok, perfetto Ci fa agilità E vado con un altro ruota fuoco Però è più veloce lei Ok Perfetto Finché sono notte così ragazzi Bisogna andare belli tranquilli Andiamo ancora avanti Siamo già arrivati? Allala Sì, siamo già arrivati Ok, con la doppia sfida E poi siamo arrivati Guarda, guarda Guarda il mio polpo Non è fantastico Non è fantastico? Navigiamo in mezzo al mare E continuiamo a navigare Questo è l'inno del marinaio Inno del marinaio Cantalo No? Allora abbiamo il bimbo E il marinaio Ok, che hanno due Pokémon d'acqua Quindi Venusaur E Uno zuffa E l'altro Li facciamo fare Ok E l'altro foglia lama Easy Perfetto Foglia lama Ottimo Ottimo così Benissimo Bene, 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 bene A posto Andiamo avanti Dovrebbe essere l'ultimo Questo Sì, poi dovremmo essere arrivati Quindi Ci vogliono Buscolo e Cervello Per affrontare il bar Ha Non per niente facile La vita è il barinaio Boh Se lo dici tu Allora Il primo è Febas Siamo in Debolezza Però con zuffa Facciamo male Lo stesso Ottimo Il primo è andato Cambia Pokémon Andiamo con Fortunello Andiamo a salire un po' tutti Anche perché Infernape è salito tantissimo Il livello 55 Ha distaccato bene 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 gli altri Ottimo anche il secondo Mi sa cos'è Cambia Mi sa che dovrebbe essere tipo di acqua L'ultimo allenatore Acqua ghiaccia Una cosa del genere Adesso non mi ricordo bene Però dovremmo avere Giustamente Dovremmo essere avvantaggiati Sottomissione Alla faccia di sottomissiono Con un altro surf E Se ne va pure Machok Perfetto Siamo arrivati all'ultima Città Finalmente Allora Arenipoli Ottimo Ma c'è vecchia sta qua Amico allenatore L'altra squadra mi sembra Proprio al sicuro Nelle Pokémon Nonostante ciò Se ne percepisce Comunque la forza Ops Scusa che è sbarato Dovremmo presentarmi Io mi chiamo Vulcano Ah il Super 4 Stavo pensando una cosa E tu capiti proprio a Fagiolo Si è stato il capo palestra di questa città Ha decisamente perso il suo entusiasmo Perché ultimamente ci sono stati Pochi Sfidanti Che valessero appena affrontare Si annoia così tanto Che passa il tempo A rifettuare la palestra Poi ci è stato il Blackout Che di certo Non l'ha aiutato Sai dove voglio arrivare? Vorrei che tu concedessi Una lotta Ah ok Un aviatore Fuoco Meglio Meglio che fuoco Anche perché noi Il fuoco ce l'abbiamo Allora qua La prima cosa che dobbiamo fare E Ehm Vabbè Faccio un girettino Iti In questa città Allora Andiamo di qua Ci dovrebbe essere pure la Ehm La cosa Il supermercato qua In teoria Dovrebbe esserci supermercato Qua abbiamo fatto stare per niente Andiamo di qua Ok Qua ci dovrebbe essere Se il supermercato Che Il Che l'Arenopoli Da sbloccare Qua Ho sentito dire che Il King Alastra Scorazzava gli intorni Combinando guai Ma qui ad Arenopoli Non si è mai fatto nessuno vivo Meglio Molto tempo fa C'erano ragazzi In omicibus Che viveva qui Alla gente Sembrava preferire La compagnia delle macchine Era uno studente Avvrillante Ricordo Mi chiedo Spesso Che ne sia stato di lui È diventato uno scemo Signora Allora qua Cosa c'è Le limina mosse Dovrebbe esserci Oh salvi Sono allenatore molto abito Il mio marito è un marinario Adesso è in viaggio Non vedo l'ora Che torna a casa da me Ok Va bene Qua dovrebbe esserci Il nego Ok andiamo qua sotto Sfera Pietratuono Ottimo Quindi in teoria Potremmo fare evolvere Pure Pikachu Se vogliamo Però non lo voglio fare Evolvere Pikachu Andiamo qua Ok Ok Vulcano lo troviamo qua Ok Ok E così Tu Sei il prossimo sfidante Da casa Ok ho deciso Se scopro che sei debole Sfiderò la lega Pokémon Ho finito con la restituzione Della palestra Quindi posso andarmene Ora più che mai Desidero delle lotte Che mi facciano di nuovo Stremare In qualità di più grande Campoalestra Legione Sino Darò libero Lo sfogo Della mia potenza Va bene Ma in tutto ciò La In tutto ciò Dov'è la Il market Che qua mi ricordo Dovrebbe esserci il market In tutto ciò Il market Non so dove sia Bene E Qua cosa c'è Allora Di qua c'è la cosa Serve Allena Cioè Allena Carichiamo i Pokémon Ottimo Ok 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 Mi ricordo che era qua Ok Di qua no Andiamo qua Questo Mercato No Mi ricordo che c'era il No Che è Jasmine Ah si Sono il capo paese Scusa Non sono il capo paese Questa città La regione di Yoto Mi piacerebbe che tu Conoscessi la regione di Yoto O se non hai le medaglie Dovrei tornare indietro Ah si può andare a Yoto Dopo anche Ah non ho sapevo Questa cosa Si poteva andare a Yoto Quindi dopo posso andare Posso tornare pure indietro a Yoto Vabbè Facciamoci la palestra Ma non abbiamo una medaglia Una pietra Yoto Una pietra Yoto Purtroppo no No Pietratuono No Allora Mettiamo davanti Stadio Poi cerchiamo la pietra Yoto Ehi ciao Finalmente è tornato Sembrava anche molto ottimista Ho l'impressione che abbia intuito Subito che sei un tipo tosto Scommetto che non vede l'ora di affrontarti Ricorda Qual era la tua missione Ho sfidato una notte infuocata Allora ti aspetto alla rega Ok Ciao 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 Ok ragazzi Ultima medaglia Cioè Sì Ultima medaglia ragazzi Questa è tosta Perché è un bordello Sta palestra Però Ok Ok Primo Però dovrei essere avvantaggiato Perché comunque Pokémon d'acqua C'è un bel Pokémon d'acqua forte E c'è il Pokémon Cioè E voi Non ne capisco La niente sti cose Cioè Che cavolo ci fa Pakirisu Con il Pokémon di fuoco Perché lui è il Pokémon Elettro Però Vabbè Manitudo E la Maron Vai con Manitudo Ottimo Quasi scettato Facciamo un altro Manitudo Dai 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 Grandissimo Ok Il primo è andato A posto Così Perfetto Allora Mi serve Una Iper No Iperpozzone Ottimo Così Ok Andiamo alla seconda Allora Qua è un bordello Ragazzi È un casino Qua Mannaglia Di qua Di qua Qua si sale Sì Poi si dovrebbe Fare Ok Dobbiamo fare il giro Spero Questa è la palestra Piuttosto Da regione di Sion Ok Mister Mind Capito Cosa C'entrano Con i Pokémon Di tipo Fuoco Questi Pokémon Qua Tipo Mister Mind Cosa Centrano Di tipo Fuoco Vabbè Facciamo un altro Surf E la Madonna Quanto cavolo Tolgono Porca Cazzo La Miseria Super Pozione Troppo Tolgono Morto Ok Andiamo con Scintilla Fai un bel Fulmine Sto Mister Mind Ok A posto Il primo È andato Ah ok Uno Allora Così Poi 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 Dov'è la rivitalizzazione Vabbè essere Quanto Non ho Rivitalizzazione No Come non ho Rivitalizzazione Impossibile Non ho Rivitalizzazione Aia Aia Beh Allora ragazzi Facciamo così Senza Rivitalizzazione Ah però Il Pokémon Di Il Pokémon D'acqua Mi serve Eh sì Per forza Il Pokémon D'acqua Serve Ragazzi Eh Il Pokémon D'acqua Serve Quindi andiamoci a fare un po' di spesa Al volo Proprio Tanto Deve essere Qua In teoria Il Market Sì No Qua sotto Deve essere Qua no Lì c'è il Il coso Eccolo lì Il Pokémon Lì vendiamo un po' di roba Che tanto sono bello pieno O tutto Quindi O il mondo Allora Iniziamo a vendere Qua cosa vendono Megambool Ok Dall'altra parte No Ok niente Allora andiamo di Qua Ok Iniziamo a vendere un po' di roba Perché abbiamo un botto di roba Qua Senti Tutte ste cose Boh Vabbè Ehm 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 Ok Ottimo E Iperpozioni Ottimo Ok Voglio vedere un attimo qua Che cavolo vendono Magari le vendono pure Quali Le cose Perché È piccolissimo Ma è piccolo Ma che cavolo di Vabbè Niente ragazzi Andiamoci a fare La palestra Ma che è meglio Piccolissimo Questo mercato Credo che fosse più grande Invece L'ho Piccolissimo Allora di qua Di qua Si sale Eh Di qua Di qua E si sale ancora Ok Così Ok Vai Andiamo col terzo Quindi Questo qua L'abbiamo già fatto Si fa Così Così No Come no 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 Così Ok Il primo È andato Poi Il secondo Abbiamo detto Così Ok Poi Ci dobbiamo andare Di qua Dobbiamo fare Il giro Comunque Così Così Forse Il secondo L'abbiamo già Voglio vincere Eh Vinci Che ti devo dire Allora Luxio Pikachu Andiamo con Con un niente Andiamo Andiamo con Con Graveler Ok Vai con Magnitudo Ottimo Buona 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 Così Ok Meno male Che è un Pokémon Alla Volta Quindi Andiamo Di qua Di qua Ok Fai Molta Attenzione Ora Si cambia Musica Il Pikachu Ci parla Ragazzi Questo qua C'ha Quattro Pikachu Sul Metto No Allora Graveler E il Magnitudo E uno Se ne va Ok Uno è andato Bella Poi Il prossimo Pikachu Continua A combattere Buongiorno Andiamo di Di Magnitudo Quindi qua Dovremmo essere Belli Tranquilli Anche Perché Debolezza Magnitudo All'8 Ottimo Il secondo Continua Magnitudo All'8 Se ne va Il terzo E il quarto Magnitudo Ottimo Anche il quarto Olè Ok Pikachu L'abbiamo Fatti Belli 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 Andiamo avanti Ok Allora Di qua È un bordello Perché Fa così Penso No 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 Forse sì Però Forse sì Sforza così E sai che sì Perché Però la scala Dovrebbe andare dritta Allora Raichu Raichu Contro Pikachu Pokemon Graveler Fulmine Ma non Effetto Dica sono Scemo Dai È tutta Raichu Grandissimo Graveler Ok Allora Qua Ah Svati qua Ok Non l'ho visto Questo pezzo Ok Dovrebbe essere giusta La strada Non sto cercando solo Allenatori tosti Contro cui lottare Mi trovo qui Soprattutto perché Mi piacciono le sfide Ok Che è una Fantalenda Sì Cadabra Cadabra Possiamo usarla Pure Pito Ci Un bel fulmine Dovrei fare male Tuttavia Andiamo Sì Buona Mamma mia Quanto mi toglie Tantissimo Scarica Ottimo Il primo Se n'è andato Raichu No Ho sbagliato Vabbè Facciamo Pokémon Graveler A posto Schermo Luce Non ci fa nulla Fossa Ah Malitudo Rifaccio Lo stesso L'attacco Anche con Fossa Ottimo Allora Andiamo Di qua Si sale Poi Dovrei 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 Essere Riuscito Tuttavia Dovrei Tuttavia Dovrei Essere Arrivato Allora Luxio Pokémon Graveler Cioè Alla fine Tutti con Graveler Sto facendo Però Dice Pokémon Tipo Fuoco E poi Sono tutti Elettro La maggior parte Sono Elettro Ok Il primo È andato Il prossimo Sarà Biberal Che Non so Cos'è Sì Tenevo Lui Sì 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 Tengo Lui Tengo Lui Sì Ok Ah Spaccoso Qua Secondo me Con malitudo Rifaccio Pure male No Allora Un altro Malitudo Più Acqua Mannaglia Incernate Zuffa Zuffa Rifaccio Malissimo Ebbè Ottimo 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 Ok Allora Ricarichina Veloce A Entrambi A Scintilla Poi Revitalizziamo A Graveler Ok E Iperpozione A Graveler Ok Allora Di qua Così Qua dovrebbe essere L'ultimo In teoria Ah no Era giusto Come prima Allora Mi sa Sì No Così Teoria Ah qua Ok Si tossa Questo qua Dovrebbe essere No No Eh si è Così Eh è così Però 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 Manca quello là Ma Ma No 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 Così Mi sa No È così Per forza Ma Così No No Cavolo Acqua No Così Di qua Si va di qua E poi E poi Così Per forza Anche perché È di là È di là Quindi Quello là Dobbiamo raddrizzare Quindi così Ok Dobbiamo raddrizzare Dobbiamo raddrizzare Quello lì Qua Dobbiamo raddrizzare Questo qua Questo qua Non ce l'addrizza Così è dritto Non ce l'addrizza Non ce l'addrizza Dai Dai però Che bordello Allora Di qua Eh Per forza Quello lì Ok Qua è dritto Così Così No Non ci fa Di qua E poi In teoria Dovei raddrizzare Con l'altro Cioè dovrei fare Tutto il giro Allora Steelix Pokemon Infernape Fulni denti Fuocobomba Beh Andiamo di prepotenza Ragazzi Basta Mi sono stati Ok Continua a lottare Zuffa E fallisce Zuffa 2 Non fallisce Ok Meditazione Ruota fuoco Ottimo Ottimo Allora qua Bisogna tornare indietro Per forza Quindi bisogna andare Giù di qua Eh si Si Ok Eh però Scusa Ho fatto Ce l'ho fatto Per niente Di qua Ok Allora così Così No La mano Non va più Questo qua Devo toccare Si Vamos Ragazzi Allora io Per sicurezza Metto avanti Stario Poi Che ragazzi Ah si Giusto Ottava medaglia Eh va bene Sfidante Non capita Tutti i giorni Si tratta di lotte Noiosi Neanche una goccia di sudore Si Io sono Corrato Il capo palestra Si dice che io sia il capo palestra Migliore della regione di Sion Ma non vedo l'ora Che questa vicenda Venga smentita Spero che tu sia Allenatore Che mi ricorderà Quanto divertente Rottare Vai zio Dai Allora Quattro pokemon Prima è Raichu Quindi Andiamo con Graveler Ottimo Schermo luce Magnitudo Ci fa breccia Ottimo Che ha mantenuto Ok Il primo è andato Ragazzi Ottimo Poi Ottileri Cambia pokemon Pikachu Fulmine Ok Ragiorora Ottimo Tuono No eh Ti pareva che falliva Grandissimo Ok Il secondo è andato Luxari Andiamo con Graveler Ok Magnitudo Dai 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 Ottimo Ok Si fa la cosa Ma no Ma non può attaccare Vabbè Andiamo con Infermate Zuffa Ottimo Ok Il terzo è andato Ne manca uno Chi è il terzo? No No Ok Ok Chi è il terzo? Quello brutto Ah no Non è brutto Questo qua Zuffa Zuffa E vamos ragazzi Ottava Medaglia Presa Bene 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 Così ragazzi Bene così È stato L'incorso più divertente Che abbia fatto Da Non so più quanto Mi hai anche creato Un po' di trepidazione Questa è la tua Ottava medaglia Andiamo ragazzi Bene 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 così Ottimo Pure cascata Ottimo Possiamo andare Alla lega Pokémon Tieni Ti voglio darti anche questo E tenuto 57 Sarebbe Raggiuscossa Non so cosa sia Ok Sarebbe 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 Qua Non troviamo più Ok Il Pokémon Market È qua Carichiamoci Il Pokémon E niente Ragazzi Ci salutiamo Qua Allora Curiamoci In secondo Il Pokémon Perfetto Ok Ok Ragazzi Detto questo Un saluto Alla vostra Sua Camera 87 Ci vediamo Mercoledì Dove Andremo Verso La mia Vittoria Bella